Let's go bitches! Lo farò uscire più o meno nel pomeriggio tardi, quindi state sintonizzati perché ragazzi ci sarà da scassarsi dal ridere. L'ospite speciale che gioca con me è Odio, che già avete visto in qualche video di pubblica, e quindi vi consiglio veramente di stare sintonizzati e di vederlo. Bella raga, vi lascio il video! Let's go bitches! Mi avete sentito parlare in un sacco di video di punti doppi, punti facili, modi per salire velocemente, eccetera, eccetera. Bene, è arrivato il momento di svelarveli. Allora, per prima cosa partiamo dal primo metodo. Allora, per la cosa che dovete mettere in conto, è meglio giocare una partita da 10, 12, 14 minuti e fare 10.000 punti, o giocare una partita che dura dai 2 ai 3 minuti e farne 4.000, 5.000 e così via? Io dico queste statistiche contando anche i bonus partita, comunque che sono i bonus che si prendono alla fine della partita. Bene, è ovviamente meglio l'opzione di giocare una partita più corta che dà però un certo numero di punti. E farne tante in fretta vi consente anche quindi di salire più velocemente. Questo come? Andando a giocare Cranked, cioè Frenesia. Ma cosa dovete fare in Frenesia? Ora state vedendo un mio gameplay su Warrock, sempre Frenesia, con l'MSBS, il fucile d'assalto a tre colpi, quello sgravatissimo, overpower. Comunque, come fare? Dovete fare un'altra Killstreak. Ma cosa intendo per Killstreak? Bene, dovete fare tante kill di fila senza morire nella modalità Frenesia. Perché questo? Perché tutte le Kill che farete quando sarete in modalità Frenesia, cioè dopo aver fatto la prima Kill, dopo essere rinati, praticamente vi daranno dei punti doppi. E andando avanti in modalità Frenesia i punti doppi rimarranno. Quindi qualsiasi cosa farete, Assist, Kill, prenderete oggetti, casse, le ruberete, le lancerete e così via, giubbotti, antiproietti, le munizioni saranno raddoppiati. E quindi vi darà anche un bonus partita più alto. Quindi se riuscirete a fare una streak, magari di 10 kill pure, o superiore, questo sarà un bel vantaggio perché riuscirete ad avere alla fine un, sia tanti punti perché farete dai 3000 ai 4000 punti sicuramente, più un bonus partita abbastanza valido da poter arrivare su 5000-6000 punti sicuramente. Potete farlo da soli, che è quello che di solito faccio io, solitamente gioco da solo Frenesia. L'ho provato alcune volte con dei ragazzi che conosco, con i miei amici, che sono delle varie pubstar, diciamo pubbiro. E comunque penso sia meglio da soli perché si trovano molte gente, se posso dirlo, ritardata, che non sa giocare Frenesia e quindi è più facile per voi stradistruggerli e fare più kill. Comunque, passiamo al secondo metodo. Il secondo metodo è molto più difficile e serve l'aiuto di un gruppo, dovete giocare quindi in gruppo. Bisogna giocare dominio e dovete riuscire in dominio a tirare una chem o di più. Non dico solo voi stessi, pure il vostro team lo può fare. Questo come? Se riuscite a tirare per prima cosa una chem, avrete punti doppi a ogni kill e a ogni altra cosa che farete. Quindi questo è un must che bisogna fare, anzi è meglio farla il prima possibile. Un'altra cosa è che tirando una chem avrete un bonus post partita molto alto. Quindi se ne tirerete più di 1 ovviamente questo bonus si innalzerà e non solo il vostro ma anche quello dei compagni. Quindi il metodo è fare un alto numero di kill perché se farete sulle 40-50 kill in dominio sicuramente avete un bonus partita alto. Più sommiamoci il bonus delle chem, avrete un bonus veramente alto. Cioè come vedete qua io vi ho messo tra l'altro un bonus partita di questa partita qua, ve l'ho fatto vedere in fotogrammi finale di questo gameplay che state vedendo. Che prendo più di 9000 punti di bonus che sono da sommare ai punti che ho guadagnato io. Che penso siano tra l'altro più del doppio di quelli che ho fatto io singolarmente nella partita. Tutti i miei compagni comunque hanno preso tanti punti in questa partita e quello che vi dico è fatelo pure voi. Come? Dovete solamente cercare di aiutarvi a vicenda per attirare più di una chem in partita. Non serve che la tiri solo una persona. In modo così da avere un bonus partita alto e di salire velocemente. Perché quello che dovete contare è che se farete questa cosa salirete così velocemente che farete quasi un livello a partita. Ma pure livelli alti come livelli 40, livelli 50. Quindi andate dal 50 al 51 con una partita. Dovete avere un gruppo comunque molto organizzato. Dovrete prepararvi bene. Cercate di evitare mappe grandi, estremamente grandi dove non riuscite a trovare i nemici. Perché il segreto per fare questi punti doppi e avere un bonus partita alto e quindi a fare più di 10.000 punti base, minimo, punti esperienza a partita. È proprio questo. Riuscire a fare almeno 40 kill con una chem. Ovviamente chi tira la chem prende più punti rispetto agli altri, intendo punti bonus. Però per il resto salirete tutti insieme. Come vedete anche in questa clip tra l'altro che ho messo. Vi saluto al prossimo video. Bella raga! Grazie! Grazie a tutti.